Non aver paura delle tensioni senza le quali la famiglia e la società sarebbero un cimitero, ma risolverle col dialogo, sciogliendo i conflitti con il rispetto dell'identità dell'altro e chiedere la grazia di saper distinguere la pace di Gesù da una pace che non è di Gesù, che non ti dà lo stupore e la gioia che vengono dall'incontro con Cristo. Sono alcune delle indicazioni di cammino lasciate da Papa Francesco ai 1500 giovani del MEG, il movimento eucaristico giovanile promosso dai gesuiti, incontrati in Aula Paolo VI. Il Papa ha risposto abbraccio alle domande di giovani di tutto il mondo, riuniti a Roma per il loro incontro mondiale nel centenario di fondazione del ramo giovanile dell'Apostolato della Preghiera. Ad un giovane che gli chiedeva quale fosse la sfida più grande affrontata nella sua vita, Papa Bergoglio ha risposto indicando la ricerca della pace del Signore, la vera pace da distinguere bene dalla pace falsa che viene dal nemico, dal diavolo. Il diavolo è un mal pagatore, mai paga bene, sempre ti truffa, è un truffatore, ti fa vedere le cosse truccate e tu credi che quello è buono, che ti dà pace, vai di là e alla fine non trovi la felicità. Cercare sempre la pace di Gesù e questa è una sfida, una sfida che ho avuto io e che ho io e che avete tutti voi. E quale è il segno della pace di Gesù? Come so che questa pace la dà Gesù? Il segno è quella gioia, quella gioia profonda. Il diavolo mai ti dà la gioia, ti dà un po' di divertimento, fa un po' di circo, ti fa felice un attimo, ma mai ti dà quella gioia. Incontrando Gesù, ha concluso Papa Francesco, sentirai lo stupore e poi la pace e la gioia e così riconoscerai che è la pace vera. Grazie a tutti.